buongiorno che funziona giusto verifichiamo se si sa mai e poi partiamo ok benissimo allora direi che possiamo iniziare oggi parliamo di due argomenti quindi parliamo del router e faremo come al solito un piccolo esempio quindi partiamo dal nostro solito esempio degli scores quindi dei voti e proviamo ad aggiungerci il router e troverete la versione con il router come sempre in uno dei repository anzi in un branch dei repository che abbiamo sul github vi faccio vedere poi dopo e nella seconda parte della mattina parliamo invece di un argomento diciamo più legato a javascript direttamente quindi parleremo delle classi in javascript quindi come si fa cioè vedremo la parte teorica di quello che in parte qualcuno sta già utilizzando perché quando poi facciamo new qualcosa di fatto stiamo creando un oggetto parleremo appunto di questa questione che in javascript ci sono gli oggetti ma non le classi ma in realtà si possono un po' emulare le classi e infine diremo due parole sui moduli che di nuovo state già utilizzando ma così diciamo completiamo la trattazione teorica per quanto riguarda javascript allora direi che possiamo iniziare tranquillamente parlando di router e prima di tutto dobbiamo capire qual è il problema cosa vogliamo porci come obiettivo e poi come lo risolviamo in React quindi il problema è che nel momento in cui abbiamo applicazioni complicate ovviamente passiamo da visualizzazioni diverse come succede a voi quando navigate su un sito complicato che non sia semplicemente la nostra tabellina degli esami in cui abbiamo un'unica pagina non c'è niente da fare se non diciamo appunto vedere il contenuto ma se voi prendete un sito complicato abbiamo qui dopo l'esempio per dire di facebook tanto per farne uno è giusto sono quelli che hanno inventato React ci sono diverse visualizzazioni magari qualche parte rimane comune non so cosa fosse questa tipo la lista degli amici forse questa è anche una visualizzazione vecchia perché poi ogni tanto cambiano comunque una parte sopra uguale ma poi un contenuto che è diverso a seconda dello stato in cui ci troviamo stato di navigazione nel senso stiamo navigando sulla nostra timeline personale stiamo navigando su quella di qualcun altro stiamo vedendo una pagina di configurazione e così via ovviamente non è che sia impossibile realizzare questi layout avendo un buon codice che ci consente di visualizzare o non visualizzare i componenti dell'applicazione però diciamo che siamo abituati ad usare le applicazioni web con uno stile un po' diverso nel senso che le applicazioni web tradizionali hanno un url da cui partiamo www.facebook.com e poi nel momento in cui clicchiamo e navighiamo all'interno della nostra applicazione questo url cambia perché a seconda di dove clicchiamo tradizionalmente veniva ricaricato il contenuto dal server e questo contenuto diciamo creava una nuova pagina con un nuovo url che corrispondeva a questo contenuto e così via per esempio vediamo i dettagli in facebook di un gruppo piuttosto che di una persona e troviamo un url differente che tra l'altro possiamo usare per linkare quella pagina esternamente o un post o una cosa di questo tipo magari è un url che non comprendiamo cioè c'è un identificativo interno di facebook o di qualsiasi altra applicazione però noi sappiamo che se facciamo copy and call di quell'url andremo a finire su quell'informazione e questa è una funzionalità estremamente comoda che però purtroppo per come abbiamo realizzato l'applicazione web finora con react abbiamo perso perché vi ricordo che l'applicazione web in react ha sempre lo stesso url vediamo appunto sotto la mia solita applicazione exam indipendente adesso non è attiva è meglio attivarla allora dunque facciamo il terminale npm start dovrebbe funzionare tutto se sono nella cartella corretta mi sembra di sì ok quindi vediamo sempre lo stesso url tra poco compare indipendentemente da quello che facciamo e questo da un lato è comodo ma dall'altro è scomodo per esempio apriamo il form per aggiungere siamo in fase di configurazione l'url resta uguale aggiungiamo qualcosa save tutto uguale faccio adesso qui l'edit non funziona oggi lo faremo funzionare cancello eccetera l'url è sempre lo stesso indipendentemente da quello che mettiamo a schermo perché questa è la filosofia react perlomeno fino ad oggi ad oggi nelle nostre lezioni dove ho perso le slide ok ecco quindi però noi abbiamo questo flusso di navigazione che vorremmo fosse riflesso anche nell'url per i motivi che dicevo prima no? di fatto l'url in questa maniera diventa anche un qualche cosa che mantiene uno stato lo stato di navigazione no? cioè dove ci troviamo come visualizzazione infatti se ci fate caso nell'applicazione in precedenza avevamo uno stato apposta per gestire per esempio il fatto che stiamo vedendo solo la tabella stiamo vedendo anche la parte di editing c'era uno stato apposta io adesso non ricordo se vabbè però qui nel codice è meglio vederlo nel codice lo stato era sembra in dove era andato a finire ah era tutto in exams course quindi quindi avevamo ecco show form no? c'era uno stato apposta per fare questa operazione a noi piacerebbe che la cosa diciamo rimanesse esternamente o quantomeno rimanesse all'interno della dell'url di navigazione no? se noi chiamiamo una pagina default o barra e basta e l'altra la chiamiamo add l'altra la chiamiamo update e così via riusciamo a creare degli stati di navigazione tramite l'url e non doverli neanche più usare direttamente come stati all'interno della nostra applicazione no? tra l'altro questo è anche utile nelle applicazioni diciamo web moderne perché ebulare questo comportamento significa che non dobbiamo ricaricare tutta l'applicazione no? come invece succede con i click veri sui link veri o sui form veri quelli che vanno a contattare il server tramite il browser perché in quel caso il browser ricarica tutto ricarica tutta l'applicazione che vuol dire ricaricare anche tutto il javascript e tutto quello che compone l'applicazione no? e avremo poi un piccolo problemino che risolviamo più avanti nelle slide che è quello di mantenere lo stato tra i cambiamenti di pagina che è comunque qualcosa che ci serve per esempio per passare informazione da una pagina all'altra e vedremo come fare quindi qui abbiamo visto gli esempi di cosa vuol dire stato di navigazione cioè possiamo pensarlo come varie viste dell'applicazione no? noi di fatto stiamo emulando un'applicazione se vogliamo per così dire tradizionale che può avere diverse schermate queste schermate sono gli stati di navigazione che sono le viste della nostra diciamo degli nostri stati in cui si può trovare l'applicazione vogliamo però non fare il reload di tutta la pagina quindi non ricaricare l'applicazione da zero perché nel nostro piccolo esempio riparte da capo perché non abbiamo interazione con un server ma in un'applicazione vera dovrebbe andarsi a ricaricare tutte le informazioni del server per esempio appunto la lista dei voti degli esami eccetera perché perde tutto quanto ok questi sono alcuni casi d'uso tradizionali diciamo del meccanismo di navigazione con gli URL per esempio abbiamo una lista degli esami oggi non le implementiamo così però potrebbe darsi che se uno clicca sul nome di un esame vengono fuori i dettagli relativi a quell'esame diciamo docenti titolari docenti come si chiama coadiutori quindi co-docenti esercitatori borsisti eccetera tutto questo genere di informazione e questo potrebbe essere una nuova pagina un nuovo stato di navigazione oppure la classica cosa che succede nell'applicazione dove abbiamo necessità di autenticarci è che prima partiamo da una pagina che so di login e poi abbiamo la pagina o le pagine dove siamo autenticati la sidebar di navigazione e così via quindi un contenuto modale potrebbe essere un altro URL quindi una finestra che blocca tutto ci fa interagire con la finestra stessa piuttosto che altre pagine di settings di configurazione e così via questi sono tutti esempi che potrebbero corrispondere a URL di navigazione differenti ok quindi gli URL determinano il tipo di pagina o la sezione del nostro sito web che fondamentalmente nel nostro caso è l'applicazione quindi se cambiamo la pagina vorremmo che si cambiasse l'URL e viceversa qui questo viceversa vedremo che non è così immediato però insomma se noi ci spostiamo in un altro stato dell'applicazione vorremmo che l'URL cambi gli URL tra l'altro possono anche embeddare dell'informazione non solo dello stato di navigazione ci troviamo in stato add piuttosto che in stato update piuttosto che non so visualizziamo la lista di post eccetera potrebbero contenere anche informazioni quali identificativi di quello che stiamo vedendo volete fare riferimento a un certo host di facebook di quello che volete e magari c'è l'identificativo sull'URL così come dicevamo prima possiamo anche usare quell'URL e referenziarlo al di fuori dell'applicazione consentendo di accedere a quell'informazione direttamente senza doverci navigare dalla prima pagina sempre che sia possibile ad esempio che non si richiesta autenticazione e così via oppure potrebbe contenere informazioni riguardo a filtri categorie e cose di questo tipo quindi con la sintassi tipica del URL punto interrogativo nome uguale valore and nome uguale valore eccetera che la tipica sintassi è già utilizzata fin dall'inizio del web per i form per mandare le informazioni al server il quale in quel caso provvedeva a fare il filtraggio nel nostro caso saremo noi nella nostra applicazione che andiamo a fare questa operazione gli URL possono essere salvati condivisi messi come bookmark eccetera eccetera e dovrebbero essere sufficienti per ricostruire lo stato della nostra applicazione ovviamente diciamo in un contesto reale dove alcuni dati magari dobbiamo andarli a prendere dal server nella nostra applicazione cina di prova questo non funzionerà del tutto ma diciamo nell'applicazione vera dovremmo essere in grado di fare questa operazione e in più nel momento in cui abbiamo degli URL riusciamo anche a far funzionare i bottoni back e forward del browser che non è mai bene utilizzare però molti li usano nel senso che qui adesso ricarico la mia applicazione e va bene faccio add portarsi in una condizione in cui dico voglio fare l'aggiunta mi sono sbagliato ok non trovo il bottone cancella cosa faccio vado a cliccare sul bottone indietro del browser che non è mai una gran cosa nelle applicazioni web ma molti lo fanno e quindi vorremmo che se possibile funzionasse in questo momento vedete non c'è niente da cliccare disabilitato ma perché siamo sempre sulla stessa pagina qualsiasi cosa faremo saremo sempre sulla stessa pagina cancelliamo disfiamma e non c'è né avanti né indietro la pagina è la stessa se riusciamo a far funzionare questi URL riusciamo a far funzionare l'applicazione in una modalità un po' più tradizionale che è utile per tutti questi motivi che dicevamo qui ok se avete dubbi o domande mi raccomando chiedete io vedo qui di fianco Slack ok noi in questo momento siamo nella situazione che vedete sul riquadro azzurro noi abbiamo un'applicazione React che con qualsiasi URL ritornerà sempre la stessa pagina per come è stato impostato React e quindi fa ripartire la stessa identica app se noi vogliamo realizzare questo comportamento quindi dobbiamo in qualche maniera dire all'app di andare a leggere qual è l'url che è stato inserito che è quello corrente e comportarsi di conseguenza vi faccio vedere se noi mettiamo barra abcd e lanciamo vedete che si ricarica la stessa pagina se io scrivo add si ricarica la stessa pagina se io scrivo p punto interrogativo voto uguale 10 qualsiasi cosa che mi salti per la testa si ricarica la stessa pagina questo è per come funziona l'applicazione in questo momento cioè di questo url non ce ne facciamo niente ok quindi come facciamo a farlo funzionare come desideriamo noi usiamo questo router ovviamente non ci mettiamo a scrivere tutto da zero perché sennò diventeremo matti però sappiamo che esistono all'interno del browser le api per poter manipolare l'url gestire l'url quindi andarla a leggere andarla a modificare cambiare le history e così via usiamo una libreria che sia in grado di fare questa cosa in maniera ben organizzata per noi e si chiama una libreria che di fatto svolge le funzioni di router router nel senso che ci indirizza i componenti che corrispondono all'url di navigazione che attualmente vediamo sulla barra del browser questo senza ricaricare l'applicazione è fatto tutto tramite react quindi un router react e javascript quindi un router javascript è in grado di andare a modificare quello che vediamo sulla barra dell'url e determinare quali componenti react se un router react sono da visualizzare a seconda del url che vediamo sulla barra di navigazione quindi in principio in linea di principio ogni volta che l'utente clicca su nuovo url noi dobbiamo fare due cose come capita nei form prima di tutto impedire che il browser faccia qualsiasi cosa di testa sua quindi che vada a ricaricare una nuova pagina quindi i link che possono stare link ma dobbiamo disattivare il comportamento cioè fare il prevent default classico che facevamo anche con i form e poi dobbiamo istruire cioè dire all'applicazione react di visualizzare o far sparire i componenti che corrispondono all'url certe cose spariranno e certe cose appariranno il router deve fare questo per noi fondamentalmente avremo diciamo un po' di regolette da seguire per fare questa operazione e adesso illustriamo come funziona uno dei più comuni router che utilizziamo in react che in quale a caso si chiama react router perché perché dico uno perché react non contiene la funzionalità del router di default e quindi dobbiamo prendere e installarcela sceglierci un router e usarlo e quindi per prima cosa dobbiamo fare questa operazione noi come sempre in questi casi vi diamo un consiglio vi consigliamo di usare il pacchetto più diffuso che è react router e in particolare dovremo installare react router DOM perché DOM perché in realtà esistono più router react router e poi ci sono diciamo diciamo delle versioni differenti a seconda del tipo delle applicazioni che stiamo sviluppando react sta venendo utilizzato anche per realizzare applicazioni di tipo nativo per esempio su dispositivi mobili eccetera quindi c'è un altro router e noi interessa quello DOM nel senso che è quello che funziona nel browser col DOM con il contenuto html se installiamo questo automaticamente si porta dietro il core e quindi diciamo ci basta un unico comando vediamo come funziona e poi lo proviamo in pratica quindi connette la navigazione degli url che facciamo all'interno dell'applicazione react con effettivamente l'url che compare all'interno del browser e è in grado di fare quello che dicevamo prima cioè di selezionare i componenti che devono corrispondere ad un certo url come dovremmo scrivere modificare leggermente il JSX si farà tramite il JSX principalmente usando dei componenti speciali forniti dal react router è abbastanza facile da utilizzare per questo anche lo consigliamo ci sono dei componenti speciali che adesso andiamo a vedere che sono fondamentalmente questi sei che dobbiamo imparare a utilizzare per realizzare la nostra applicazione con la funzionalità di routing quindi che possa utilizzare il dual senza ricaricare tutto visualizzando quello che desideriamo noi prima di tutto per muoverci tra i vari url abbiamo bisogno di link e quindi ci viene fornito anzi ci vengono forniti tre componenti link nav link redirect che useremo al posto del classico link a l'ancor che non dobbiamo più utilizzare perché altrimenti quello dovremmo gestircelo noi a mano con un on click prevent default e poi fare le cose è stato incapsulato dentro un link quindi noi non avremo più link a che se no scatenerebbero il caricamento della pagina in una nuova pagina eccetera cosa che non vogliamo ma non vogliamo neanche scriverci il codice relativo e router ci mette a disposizione questi meccanismi poi avremo un paio di componenti che ci servono a metterci dentro i componenti della nostra applicazione che vogliamo visualizzare per un certo URL quindi useremo più route si chiamano gli URL nella terminologia del router react si chiamano route quindi specificando un certo URL oppure con un sintassi un po' più semplice quando abbiamo delle alternative in molta esclusione con una switch tipo linguaggio di programmazione o uno l'altro l'altro e poi semplicemente tutta l'applicazione è wrappata dentro un container di tipo quindi un componente router che è quello che fa sì che i componenti feed ereditino le caratteristiche necessarie a far funzionare il router ok diamo un'occhiata come funziona quindi noi abbiamo la nostra applicazione diciamo che la nostra applicazione da qualche parte ha bisogno di link per navigare se la vogliamo sottolineare in questa maniera dovremo avere dei punti dove l'utente clicca e si cambia navigazione prima avevamo dei bottoni come nell'applicazione qui abbiamo un bottone add questo diventerà un link poi magari nella nella forma è visualizzato sempre come un bottone ma concettualmente diventa un link e quindi avremo dei link in cui specificeremo l'url questo nella sintesi più semplice che farà sì che tutto messo dentro un router anziché caricare una nuova pagina il router si occupi di andare a prendere i componenti che corrispondono a quello stato lo stato di navigazione sull'url quindi per esempio dato per fare un esempio semplice switch su una di queste tre route quindi nella route slash quella iniziale visualizzeremo il componente home altrimenti il componente about altrimenti il componente dashboard in realtà vabbè qui avremmo dovuto scrivere dash perché avevamo messo dash abbastanza semplice da capire ok quindi router cosa fa è quello che racchiude tutta l'applicazione occhio che esistono diversi router anche nel momento in cui abbiamo scelto react router dom ci sono diversi router perché in realtà diciamo i browser più vecchi non supportano bene la navigazione tramite url quindi url del tipo slash qualcosa ma diciamo hanno bisogno di qualche trucchetto per funzionare correttamente noi per i moderni browser diciamo useremo questo che è il browser router che prendiamo da reactor router dom lo rinominiamo router così nelle nostre applicazioni non scriviamo browser router ma direttamente router e se lo volessimo volessimo adattare l'applicazione a altri browser per esempio che hanno bisogno del più vecchio hash anzi hash router che funziona sui browser più vecchi semplicemente cambiamo l'import scriveremo hash router e la nostra applicazione rimane inalterata perché usa il nome router quindi nell'import rinominiamo questo lo vediamo nella seconda ora ma penso che oramai quasi tutti abbiano almeno provato una volta a fare ecco dobbiamo solo fare attenzione che il browser router che è il più moderno e raccomandiamo richiede una piccola configurazione nel server nel senso che nel momento in cui abbiamo la necessità di usare degli URL se delle richieste vanno verso il server con degli URL il server va a scompattare questo URL e a cercare la risorsa nel percorso sul file system che corrisponde a quell'URL a meno che noi non diciamo di fare l'operazione di ignorare questo URL quindi in React Development Server è già stato risolto tutto infatti ve l'ho fatto vedere qualsiasi cosa scriviamo qui lui ci serve sempre la nostra applicazione ma se noi prendiamo un server web normale lui ci dirà percorso non trovato e quindi dobbiamo fare una piccola modifica ora qui lo rivedremo poi quando faremo la parte server però diciamo che se voi usate un server web esterno come succede poi nei casi reali quindi non usate node di solito ma usate appunto Apache Nginx eccetera questo server web dovete fare questa piccola configurazione l'altro router invece più compatibile con i browser vecchi non richiede la configurazione del server web perché in realtà il cancelletto è il frammento dentro HTML quindi tutto ciò che c'è dopo il cancelletto è lato client e viene ignorato quindi è come se avessimo messo un cancelletto nel nel nostro URL che qui di nuovo in React non ci cambia niente nel development però se abbiamo server web quello fa sì che tutto il resto venga ignorato perché è un link interno della pagina ok va bene piccola precisazione ma diciamo che noi basta mettere router intorno a tutti i componenti della nostra applicazione tipicamente nella pagina app quindi nel file app che è il componente principale e diciamo avendo identificato le root abbiamo risolto praticamente il nostro problema come facciamo a fare render selettivo di quello che ci interessa che corrisponde all'url che vogliamo bene tutto ciò che è frappato dentro il componente root che non è più router router è quello intorno a tutto ma dentro il componente root questo qui viene renderizzato quindi mostrato solamente se l'url matcha quello che noi scriviamo quindi ogni componente ha delle properties le properties di root sono diverse una di queste è path che è il percorso se matcha quel percorso ciò che viene messo in componente questa è una delle possibilità viene renderizzato quindi il componente ovviamente questo è un po' scomodo come sintassi perché qui diciamo home ma non possiamo specificare attributi diventa scomodo specificare attributi eccetera infatti ci saranno poi altri modi di fare di specificare cosa mettere dentro qui l'abbiamo tagliata corta nel senso che abbiamo fatto che chiudere il tag root e quindi non ha figli diciamo nella scrittura del GSX quindi c'è root chiuso già direttamente quindi per dirgli cosa fare usiamo componente ecco bisogna poi fare attenzione a come funziona il match dell'url l'url di default usa una reg exp che vuol dire regular expression che è una sintassi particolare che ci consente di fare il match diciamo niente tutto ciò che è la sottostringa news viene matchato altrimenti se c'è un attributo in più exact richiediamo che sia esattamente quella stringa la regular expression ci consente di mettere cose anche particolari tipo asterisco per dire qualsiasi cosa punto interrogativo per dire un carattere eccetera eccetera quindi costruire espressioni che fanno il match di alcuni valori particolari delle stringhe quindi questo è quello che dicevo path regular expression essendo che mettiamo appunto solo uno slash se non mettiamo exact praticamente tutto ciò che inizia con slash viene matchato quindi corrisponde a quella route quindi opzioni esatte exact non usa la regular expression strict boot no richiede che ci sia lo slash alla fine altrimenti diciamo che ci sia non ci sia fa match lo stesso sensitive diventa case sensitive perché il default è case insensitive ok quindi è ragionevole nel momento in cui scriviamo add non è che vogliamo fare pagine diverse con add maiuscolo add minuscolo comunque se necessario si può cambiare roots dinamiche quindi url dinamici dicevamo prima che gli url possono avere dei parametri come facciamo a gestirceli bene usiamo questa sintassi due punti qualcosa perché beh da un lato diciamo ci semplifica il match nel senso diciamo un qualsiasi valore e dall'altro ci viene recuperato automaticamente in una variabile anzi in un oggetto che poi possiamo accedere tramite .params punto il nome che abbiamo voluto dare a quella parte di url quindi se uno scrive come url usa come url slash post slash 13 id quindi match params id barra 13 quindi possiamo poi usarla in qualsiasi espressione che abbiamo bisogno di utilizzare nel creare i nostri componenti quindi questa è una semplificazione cioè noi anziché andare in qui quindi a scriverci vedremo come funziona il render ma comunque del codice javascript che fa prendi l'url vai a isolare l'ultimo pezzetto prendi l'ultimo pezzetto vai a vedere se corrisponde all'id che interessa me eccetera è già tutto fatto e noi abbiamo a disposizione questo paramcd quindi parametri dell'url sotto forma di campi di un oggetto con lo stesso nome che abbiamo scelto noi quindi l'utente non deve scrivere id qualcosa eccetera ma deve semplicemente mettere un identificativo che possono essere numeri caratteri e qualsiasi cosa ok quindi questo può venirci comodo ma come si vedeva in nell'url dove era ecco ti bisogna scrivere post barra 123 quadro e questo se abbiamo scritto due punti d nel path del root questo numero verrà fuori in in params punto id e posso usarlo in javascript come uso qualsiasi altro valore ok bene ecco render methods avete intravisto qui il render non il component perché perché diciamo il component è la cosa molto base quindi se ho solo un componente così va bene posso scriverlo però diciamo ho bisogno di sintassi un po' più elaborate per esempio prima di tutto posso anche mettere il my component dentro come figlio di root quindi scrivere root path eccetera chiusa parentesi diciamo acute cioè maggiore poi my component e poi aperto root slash root cioè aperto root slash no scusate aperto slash root quindi qualcosa tipo vabbè tanto dopo lo vediamo credo che ci sia quindi ecco quindi posso scriverlo come come figlio root eccetera metto i miei componenti e poi chiudo root ok questa è una possibilità seconda possibilità c'è una properties render a cui si passa una callback tanto per cambiare una callback in javascript che ci ritorna il jsx da utilizzare per quando quella root è selezionata quindi tutto quello che vogliamo come valore di ritorno questo è di solito il meccanismo preferito perché perché poi nei parametri come avete intravisto prima possiamo scrivere qualcosa ed utilizzarlo dentro il nostro jsx e parleremo dei parametri qui e poi c'è una terza modalità che è quella di scrivere children uguale e di nuovo una callback che fa il render del result della funzione come prima diciamo che è utile nel momento in cui si deve fare qualcosa di un po' più particolare ma io vi consiglio che di utilizzare il render che può sicuramente bastare diciamo per i nostri scopi in ognuno di questi casi quindi quando passiamo la callback alla funzione vengono passate tre props ok match location e history match adesso ne andiamo a vedere nel dettaglio match ci consente di capire qual è lo status di match della route ho fatto il match esatto c'era un pezzo che non ho considerato e così via e in più posso agganciare i parametri come avete visto prima location ci dà l'urlo corrente più una serie di altre cose che vedremo e l'history ci dà un oggetto col quale possiamo anche vedere tutta la storia di navigazione se ne avessimo bisogno possiamo andare a vedere dove è stata l'applicazione come urla prima dell'urlo corrente match allora sono tutti oggetti quindi match location history quindi vuol dire che diciamo abbiamo la possibilità di fare punto qualcosa come abbiamo fatto prima punto params params è un oggetto e sono dei coppie chiave valore come vedevamo prima che corrispondono alla parte dinamica del path quindi noi abbiamo messo due punti id ci ritroviamo punto id a disposizione se ci fosse slash due punti non lo so qualcos'altro ci troviamo quel qualcos'altro come punto params punto qualcos'altro ok quindi possiamo avere anche più identificativi ok is exact è un boolean ci dice se l'url intero è stato matchato quindi non è che c'è un pezzo in più in fondo di cui non si è fatto il match perché possiamo fare il match anche di sottostringhe le regular expression vanno a cercare una sottostringa nella stringa dell'url path è il diciamo il path nel path usato per fare il match quindi di fatto quello che abbiamo scritto nel path e l'url è la parte di cui si è fatto il match nell'url quindi la sottoparte se non è esatto ok può essere utile in certi contesti diciamo per applicazioni più complicate ok quindi se usiamo la sintassi render o children ce li abbiamo come parametri della callback e qui notate abbiamo messo le graffe perché i parametri sono tre e questo è un modo per isolare uno dei tre parametri della call se no potevamo scrivere match virgola match virgola location virgola history ed era la stessa cosa però per isolare uno solo e gli altri due non ci interessano scriviamo così che è sintassi javascript e riesce ad isolarci il parametro che ci interessa ok attenzione solo col children il match può essere nullo va bene però diciamo che il children ci interessa poco ok quindi fondamentalmente quindi match è il parametro più importante perché fondamentalmente ci consente di recuperare i parametri adesso poi vedremo come invece passare a uno stato e ci servirà un altro di questi oggetti prima di andare avanti però vorrei farvi notare che con gli hooks quest'anno facciamo e ampiamente ci teniamo che diciamo li usiate anche se non è strettamente obbligatorio per l'esame però visto che semplificano abbastanza credo che sia una buona abitudine imparare a usarli e questi parametri e quindi la diciamo i params history e location i match root match siamo in grado di recuperarli con degli hook quindi nei componenti all'interno della root quelli che abbiamo detto che vengono renderizzati quando la root fa il match siamo in grado di recuperarci questo in genere di informazioni quindi use root match è utile per accedere al match data senza fare rendering di una root necessariamente quindi questo tra l'altro funziona appunto se anche senza fare rendering di una root come si usano semplicemente come lo use state che abbiamo visto finora anche lo use context ad un certo punto all'inizio del nostro componente tipo funzione mettiamo cost qualcosa uguale use history use location use param e poi abbiamo quell'oggetto e ne facciamo quello che vogliamo quindi use location ci dice il path name con path name sappiamo cosa c'è scritto sull'url i params quindi se noi avessimo avuto un root path blog due punti slug ci tirava fuori tutti l'oggetto dei params quindi potremmo scrivere slug punto no scusate non slug se davamo un nome scriviamo nome punto slug oppure con questo assignment destrutturato apriamo le graffe e qui ci mettiamo tutti i parametri che abbiamo messo sulla root e ce li abbiamo direttamente come variabili ok history ecco history un po' particolare perché è vero che possiamo diciamo usarlo per vedere la storia di navigazione ma di solito lo usiamo per fare una cosa un po' particolare cioè per aggiungere un nuovo url sulla history cosa succede nel momento in cui facciamo history.push succede che il browser è come se gli avessimo detto di caricare un nuovo url e quindi lui va a navigare su home se diciamo siamo dentro la struttura del root react il root react intercetta questa cosa e ci porta ad una nuova root quella che abbiamo detto slash home e quindi andrà a cercare la root che fa il match o il path per il nostro home e renderizzerà quei componenti quindi una maniera alternativa di diciamo cambiare url di navigazione perché magari nel codice senza che l'utente abbia cliccato specificatamente su un link ma nel nostro codice decidiamo che dobbiamo cambiare lo stato di visualizzazione visto che lo stato di visualizzazione lo otteniamo nell'url vuol dire cambiare l'url come facciamo a cambiare l'url questa è una possibilità l'altra possibilità che vedremo tra poco è quella di usare un componente apposta che si chiama redirect ok ancora qualche parola su come funzionano le root regola generale per le root è che tutte le root che fanno il match con l'url sono renderizzate no quindi bisogna fare attenzione a come si scrivono i path ok perché per esempio se noi scrivessimo root path slash questa è sempre renderizzata quindi la home ci viene fuori sempre che non va bene se siamo in un altro stato in cui la home non ci serve più per questo abbiamo scritto exact no ma alle volte vogliamo renderizzare solo una root di un gruppo di root e questo è il caso forse più tradizionale no nel senso siamo o su un world o su un altro su un altro su un altro come facciamo a realizzare questo comportamento bisognerebbe fare molta attenzione a come si scrive un ipad per fortuna c'è un componente apposta che si chiama switch che fa sì che nel momento in cui ci sono più root dentro lo switch la prima che matcha viene visualizzata ok e basta e poi ci si ferma quindi sono in mutua esclusione si parte dalla prima si va avanti per esempio se noi abbiamo slash about si passa dalla prima farebbe il match lo slash ma siccome ho scritto exact lo slash c'è ma io vorrei che ci fosse solo lo slash non fa il match si passa avanti ho scritto slash about questa fa il match si renderizza about e si finisce lì perché è dentro switch se non fosse dentro switch si andrebbe avanti a vedere se tutte quelle che successive fanno il match e se fanno il match si inseriscono i componenti relativi quindi per esempio se io scrivessi che so slash Enrico no la prima non fa il match perché è exact la seconda non fa il match perché cerca about la terza slash due punti user questo fa il match con qualsiasi cosa che diciamo scrivo dopo uno slash quindi match la prima nel senso di ordine non nel senso di most specific sì dovrebbe essere nel senso di ordine il primo figlio di switch nel senso di ordine sì ed è per questo che si dice di iniziare con la più restrittiva no ok e se poi ci fosse qualcosa che appunto se io mettessi l'about dopo slash due punti user about avrebbe preso come parametro no e non è quello che voglio ok se non c'è un path per esempio questa route che non ha path matcha qualsiasi cosa e potrei che so farci un componente con scritto pagina non trovata insomma queste cose qua che visualizzo quando c'è un problema per qualche motivo dentro l'applicazione qualcuno ha inserito un url che non è corretto anche io in fase di programmazione dell'applicazione magari c'è uno sbaglio da qualche parte vado a finire su un url che non avevo previsto e viene fuori un messaggio e magari no match c'è scritto guarda riparti da qui slash per ricominciare scusaci punto ok quindi di solito noi usiamo una struttura di questo tipo in app mettiamo il router e poi il switch qualche root che corrispondono agli stati di navigazione che vogliamo implementare con i relativi componenti scritti come componenti figli in questo caso oppure scritti come il render che l'hanno visto qua ma adesso vediamo render eccetera ok c'è l'esempio con render nel momento in cui dobbiamo navigare dicevamo prima che abbiamo bisogno di link non possiamo mettere i tag a anchor abbiamo bisogno di questi componenti link è usato componente link per fare il trigger di una nuova root nel momento in cui l'utente ci clicca sopra e quindi funziona come la qualcuno deve cliccarci ha un attributo tu che prende l'url in cui andare e può essere una stringa quindi direttamente l'url oppure un oggetto con quattro campi non necessariamente da specificare tutti in cui vi faccio notare trovate particolare lo stato è una cosa che ci interesserà oppure una funzione quindi può essere tanto per cambiare come sempre una callback che ritorna o una stringa o un oggetto di questo tipo se diamo l'attributo replace nella storia degli url viene rimpiazzato l'url corrente e non aggiunto questo è un dettaglio nel DOM alla fine genererà un link di tipo A ma un link che poi diciamo react è in grado di intercettare e diciamo fa già tutto per noi fa il prevent del default quindi non fa caricare la nuova pagina e ci porta alla nuova root che corrisponde al percorso che ho inserito come stringa o come path name il search è la parte dopo il punto interrogativo se devo scrivere una query magari ogni tanto avete uno stato cioè avete un urlo che richiede una query per dire ordina per nome ordina per cognome ordina per voto lo mettiamo nella parte search ok quindi esempio con l'oggetto qui si vengono specificati un po' meglio quei quattro parametri il path name è l'equivalente della stringa ma se io uso l'oggetto posso specificare altre cose quindi la search di cui vi parlavo cosa c'è dopo l'hash quindi dopo il cancelletto nell'url che però tanto col browser router non è usato quindi non è che serva più di tanto se usate browser router e soprattutto lo stato uno stato che persiste dopo il cambiamento di location che può essere molto utile per inizializzare uno stato nei nuovi componenti quindi perché nel momento in cui abbiamo componenti sotto le root poi come facciamo a farli parlare insieme se dobbiamo passarci qualcosa alternativa 1 emetterlo come parametro e quindi nel path name dobbiamo usare parte del path name come parametri agganciarli con la sintassi due punti due punti id due punti name eccetera eccetera o passarli come parte search quindi punto interrogativo con la sintassi diciamo tipica dei form nome uguale valore and nome uguale valore eccetera oppure possiamo farlo internamente senza farlo comparire sull'url tramite questa proprietà dell'oggetto che si chiama state in cui possiamo metterci quello che vogliamo in particolare ci metteremo di solito un oggetto o se è particolarmente semplice la cosa magari una stringa un valore immediato ok poi cosa ne facciamo beh dipende da quando lo riceviamo adesso vediamo degli esempi quindi come facciamo a passarci lo stato tra pagine se avete bisogno di passare dell'informazione che deve essere disponibile quando l'applicazione va a una specifica location quindi una certa root nella vostra applicazione la potete includere nell'oggetto come dicevamo prima che è un'alternativa a passarlo come parametro quindi a farsi degli url particolari slash post slash due punti di slash due punti qualcosa come facciamo ad agganciarlo perché abbiamo detto come passarlo ma come lo agganciamo bene allora come passarlo è link to ecco occhio ricordatevi che passiamo un oggetto quindi la prima graffa apre il contesto javascript la seconda graffa crea un oggetto quella gialla crea un oggetto path name update state ci involtiamo quello che ci pare di solito un altro oggetto perché probabilmente passiamo più di una singola informazione e poi la agganciamo come viene scritto qui a destra c'è una domanda non mi è chiaro se una root blocchi il normale passaggio degli stati come abbiamo fatto finora no non li blocca non lo blocca però il problema è che le root di solito sono a livello più alto no e quindi o mantiene tutto lo stato in app oppure deve usare questo meccanismo no quindi se manteniamo tutto lo stato in app allora come dire certe volte la cosa è un po' scomoda perché creo degli stati di navigazione dentro app e e perdo un po' l'utilità di usare il router no almeno dal punto di vista del passaggio dell'informazione quindi questo è un po' un compromesso che bisogna stabilire in fase di programmazione noi possiamo fare tutto senza il router come vedevamo nell'esempio cioè questo è fatto senza il router potrei anche farlo facendo sparire la tabella no quindi simulando una nuova pagina se però poi questo form no come fa in questo momento deve aggiungere un esame quindi dire quale esame deve aggiungere eccetera lo deve dire a un'altra pagina quindi a un'altra route devo trovare un modo di passargli l'informazione oppure me la salvo in una variabile apposita di stato che però a questo punto deve stare per forza in app perché è quella comune a tutti i componenti che stanno nel diciamo che stanno nell'albero che parte da app perché nell'albero che parte da app ci sarà root pagina principale root form add root form update e così via quindi non blocca però diciamo che sto sto perdendo un po' l'utilità di mettere lo stato dove avrei voluto mettere perché finisce tutto con lo state lifting finisce tutto in app perché altrimenti non è più visibile invece qui se passo le cose in questa maniera diventa visibile in questo modo indipendentemente da dove si trovano i componenti nell'albero della mia applicazione perché ci pensa il router a passarmi l'informazione ok spero di essermi spiegato comunque proviamo a vederlo nell'esempio ok quindi qui è come passiamo l'informazione e qui come la agganciamo quindi è la root che sarà presumibilmente dentro app sotto router magari dentro uno switch path update render aperta tonda questa volta anziché match ho messo location ma avremmo potuto scrivere anche match virgola location non agganciamo solo quello che ci serve per lasciare il codice più pulito e quindi location e poi ci sarà il componente che ha bisogno dell'informazione e gli do l'informazione che gli serve dove la prende lo stato e beh lo stato è una proprietà di location come dicevamo prima no no non c'era ancora allora non dicevamo prima scusate niente lo diciamo qui quindi in location in location abbiamo la possibilità di agganciare lo state ok e poi cosa c'è scritto dopo state beh dipende dall'oggetto che abbiamo passato potrebbe essere direttamente il valore potrebbe essere un oggetto come qui e gli passiamo quello che ci pare no quindi exam code per dire giusto per farci l'esempio che vedevamo prima c'è il form fa l'add e ci dice qual è il codice dell'esame da aggiungere e ci passa quel codice poi in realtà magari vuole passarci anche il voto eccetera ma non volevo pasticciare troppo l'esempio ok questa è la maniera di agganciare l'informazione passata e questo gira internamente all'app e non la vediamo sull'urlo ok due diciamo suggerimenti location state io qui vi ho fatto vedere che si accede tramite render ma abbiamo visto che c'è un uc apposta quindi volendo posso fare const location use location e in location mi ritrovo lo state sempre se qualcuno me l'ha impostato occhio quindi come sempre in tutte le applicazioni occhio che potrebbe succedere che perché avete sbagliato a programmare perché qualcuno carica l'urlo da fuori eccetera eccetera può succedere che una variabile non sia impostata e quindi se non è impostata succede che nel momento in cui fate punto qualcosa su una variabile non impostata che quindi prende il valore undefined vi viene fuori un errore proprio il classico errore che in debug di react vi blocca tutto e però in generale è bene gestirlo perché potrebbe sempre capitare e quindi pensate ad un default ragionevole vabbè chiaramente non farà più l'azione che volevate volete aggiungere l'esame non c'è più l'esame vabbè non si aggiungerà niente ma almeno la vostra applicazione non si pianta non si blocca perché gli manca qualcosa e quindi la parte destra è equivalente alla parte sinistra quindi anche nella parte diciamo nel nel modo di usare la location tramite la callback sul render dovrei fare la stessa cosa quindi in qualche maniera dovrei sempre pormi il problema di gestire l'eventuale errore perché perché l'applicazione è così è più robusta però ecco dicevamo che vedete che a sinistra forse visto che conosciamo gli hook usiamo gli hook use location è una maniera abbastanza pulita per accedere a questo tipo di informazioni ovviamente se dentro il componente uso location state è perché so che qualcuno quando mi ha fatto il link mi passerà lo state perché altrimenti chiaramente non avrebbe senso ma sono io che penso alla mia applicazione penso alla mia struttura penso gli url penso alle route penso ai link quando chiamo le route e quindi sono io che devo ricordarmi di passargli lo stato ok ancora due o tre cose poi abbiamo finito e proviamo con l'esempio quindi proviamo a sviluppare qualcosa nav link equivalente al link ha solo una cosa particolare cioè quando matcha l'url corrente automaticamente applica l'active class name che io gli metto per esempio gli posso mettere active così mi viene evidenziato così evitate di scrivere un po' di codice vi fate una lista di link e se nello stato di navigazione sono quello che corrisponde al mio link lui prende un class diverso e quindi si visualizza diversamente quindi niente di particolare semplicemente una facilitazione di programmazione cos'è non è dovete fare tutti i link mettendoci una properties in cui aprite graffa e fate if non so tipo l'url match allora aggiungi class insomma è già fatto ok redirect è quella che vedevamo prima che va scritto diversamente bene come facciamo cosa serve redirect quando viene renderizzato un componente redirect in realtà succede una cosa un po' particolare cioè non si vede più tutto il resto che c'è dopo redirect infatti di solito redirect non ha nessun figlio perché tanto non verrebbe renderizzato ma semplicemente forza il router che utilizziamo ad andare a una nuova location che è quella specificata nel tu che può essere una stringa può essere un oggetto può essere qualsiasi cosa come abbiamo visto prima come facciamo a decidere se renderizzarlo o no beh di solito questo viene fatto tramite uno stato no tipo siamo in un form vogliamo fare la sottomissione quindi facciamo invio siamo nell'ender dell'on submit ok l'ender del submit prevent e fault sempre per evitare che il browser faccia qualsiasi cosa e poi e poi qui siamo in un end non possiamo scrivere return redirect qui non possiamo ritornare del gsx il gsx si può ritornare semplicemente nel metodo render che è quello dei componenti di tipo funzione che hanno un metodo render e quindi come facciamo a decidere se mettere redirect o no sulla base dello stato decideremo se fare return redirect e basta o tutto il resto in questo caso per esempio un form quindi tutti i campi del form eccetera quindi questo è il modo di usare un un componente di tipo redirect alternativa uno potrebbe fare location push come abbiamo intravisto prima location push è un po' più grezzo nel senso che non avendo la possibilità di passare un oggetto eccetera di fatto va semplicemente a caricare un nuovo url sulla storia degli url del browser e quindi forza il browser a caricare un nuovo url e visualizzarlo e il router aggancia questa azione e ci porta alla nuova root ok quindi da usare ma diciamo che il metodo forse più tradizionale sarebbe quello del redirect si può usare va bene insomma diciamo se andate a leggere i dettagli poi magari c'è qualche piccola controindicazione nel senso che non è il massimo come manutenibilità eccetera però voglio dire può andare per i nostri scoppi arriviamo quindi all'esempio che vogliamo vedere oggi quindi abbiamo nella nostra lista esami abbiamo il bottone add che avete visto ci apre form non è history push era history push mi sa di sì vediamo un po' se era location push o history push history push ha ragione è sbagliata la slide la correggeremo grazie ok perfetto ok ce l'avremo anche nell'esempio no nell'esempio mi sa che abbiamo usato redirect va bene ok history dicevamo c'è l'applicazione noi abbiamo il bottone add avete visto che in questo momento il bottone add ci fa comparire il form di sotto potremmo anche far sparire come vi dicevo la tabella ma non cambia il fatto che saremmo sempre sullo stesso url slash no noi adesso vogliamo ristrutturare quell'applicazione facendo diversi url quindi diverse route e quindi costruendo praticamente diverse pagine le pagine le potete considerare come viste dell'applicazione cioè sono uno stato di navigazione quindi per esempio il classico caso di nuovo stato di navigazione nuova vista è quando dobbiamo inserire nuovi dati add oppure potrebbe essere l'update sulla delete non c'è niente di particolare da fare perché premiamo un bottone sparisce sì se proprio volessimo potremmo far scomparire un modal di conferma però più che dire sì no lì non è che non so neanche se sia il caso di fare un url probabilmente no potremmo come vi dicevo prima magari avere che so l'esame cliccabile clicca sopra e ci potrebbe essere una pagina di dettaglio quindi slash detail slash oppure slash exam slash e un identificativo del esame e in quella pagina comparire altre informazioni che però in questo momento nell'applicazione non abbiamo tipo il nome del titolare del corso docente esercitatore orario sono tutti i dettagli che vogliamo sarebbe una cosa interessante ma purtroppo non ci stiamo quindi non riusciremo a farla però potrebbe provare giusto per provare un url che abbia anche un parametro quindi slash exam slash due punti id e poi ci passa che so il codice del corso ok quindi una volta che ho pensato le mie pagine devo anche pensare come si naviga tra le pagine perché perché poi questi due bottoni diventeranno dei link oppure oppure se non sono dei link cancela è facile farlo un link no un link indietro tanto non devo salvare niente il save se resta un bottone diciamo che ci porta all'handler in cui facciamo la validazione del form dopodiché possiamo avere uno stato apposta per fare render rate oppure fare l'history push come dicevamo prima stessa cosa per l'update quindi la differenza tra i due è che in un caso avremo già i dati caricati e nell'altro invece è tutto vuoto e dobbiamo impostarli ok proviamo a fare a vedere di modificare la nostra applicazione quindi io qui ho caricato il l'esempio che avete online quindi il react scores nella versione with with no with form ok quindi ho preso questo e stiamo partendo da questo e lo dico perché resti registrato se uno vuole poi provare ed è quello che abbiamo visto funzionare prima quindi solito quindi adesso carichiamo senza l'urla e la solita faccenda e funziona il delete andiamo a vedere di fare le nostre route allora dobbiamo avere in testa lo schema di prima quindi questo fatevelo sulla carta fatevelo nella mente dove volete ma dovete avere più o meno l'idea di come volete navigare nella vostra applicazione perché altrimenti non riusciamo a scrivere nulla ok fatto questo schema concettuale andiamo ad implementarlo e quindi andiamo a prima di tutto in app prima di tutto in app e andiamo a far funzionare il router quindi faremo dunque prima di tutto return router ok ovviamente l'altro router tutto deve essere dentro router perché mi è sparito va bene scriviamo router ok dunque l'ho importato no non l'ho importato e quindi devo devo poi farlo no quindi se io adesso salvo poi mi si lamenterà ecco router is not defined vediamo questo import perché vi diciamo chiariamo quella cosa dell'import no quindi faremo import diciamo dovremmo fare router as no from diciamo scriviamo male questo è sbagliato però from react router dom adesso adesso in realtà devo installare il pacchetto però se faccio così in realtà router non so cosa ci sia dentro io ho detto che volevo usare il browser router quindi scrivo browser router as router ok adesso salvo e mi dirà che non c'è il pacchetto e quindi interrompo faccio npm install react router dom un attimo di pazienza e mi arriverà il pacchettino spero che non ci metta troppo intanto noi abbiamo messo tutto dentro router che è la prima cosa da fare e poi e poi ci facciamo le route quindi diciamo app title vabbè app title possiamo lasciarlo da parte e diciamo che ci facciamo le nostre route io direi che la cosa più semplice è fare iniziare con uno switch no? perché lo switch ci salva da tutti i problemi fatto che possono esserci route multiple quindi ok a questo punto ci facciamo la route ogni route avrà le sue cose quindi la route base direi che la cosa migliore è allora format document cosa migliore è avere prima di tutto una route base no? quindi path diciamo cominciamo col percorso sotto forma di stringa che è la cosa più semplice noi vi consigliavamo di usare render quindi io metterei render ok quindi freccia quindi mettiamo freccia e va bene così qui dovrebbe andare bene così qui non abbiamo bisogno di match cioè altri params location eccetera eccetera per cui di fatto questo dovrebbe già funzionare come versione base dobbiamo adesso ho installato react root ci sarà ah no devo lanciarlo però mi darà un errore perché devo ah no devo salvarlo prima di tutto e devo importare anche root quindi facciamo che farlo se no tanto e diciamo switch anche che importo tutti da router dom ok compilato senza warning facciamo un primo giro e non dovrebbe essere cambiato nulla no perché qui non ho fatto niente siamo su slash pippo e questo fa match di pippo anche quindi notate che lo fa perché perché io non ho messo exact ma poi in realtà se avessi messo exact non cambiava niente perché react comunque mi porta sempre la stessa pagina quella configurazione server di cui dicevamo questa la lasciamo per ultima che è il default no quindi perché è lo slash che prende un po' tutto e prima diciamo che vogliamo fare facciamo la parte di add quindi decidiamo un path questo lo decidiamo noi qualcosa che abbia un senso path add render uguale aperta graffa aperte ton freccia e chiuderemo root va bene e ci mettiamo dentro cosa ci mettiamo dentro dunque qui avevamo gli exam scores in realtà io vorrei il form no io avevo una componente di tipo form cioè per il form sì ho exam form bene quindi sto cercando di ricostruire tutto il percorso mentale che farei nel cercare di mettere a posto la mia applicazione no quindi exam form devo passargli un po' di cose adesso non abbiamo il tempo di andare a vedere proprio tutto nel dettaglio no ma courses quindi guarda facciamo facciamo così gli passo gli passo ah no mi sbagliato ecco oh mi com'è antipatico va bene gli passo i corsi che voglio che siano visualizzati nel form no e poi e poi gli passo una funzione ad exam ok che non ho fatto e quindi dovrò farmi ad exam e tengo a questo punto in app no scusate però dentro app ok però se voglio aggiungere gli esami vuol dire che come è stato devo tenermi lo stato a questo punto me lo tengo qui e non me lo tengo più dentro l'exam table no exam scores ok quindi poi dopo andrò a tirarlo via quindi exam scores fondamentalmente andrò a tirarlo via anzi facciamolo subito perché lo stato duplicato è una delle cose peggiori che uno può combinare perché perché come qualcuno ha sperimentato in laboratorio poi abbiamo due posti dove si tiene la stessa informazione ci diciamo pasticciamo sicuramente perché finisce che ne aggiorniamo uno non l'altro e poi comunque non è una buona pratica di programmazione deve esserci la cosiddetta single source of truth ok quindi ho portato in realtà anche il delete exam e tutto quanto diciamo che questa roba anzi il delete exam la porto via da exam table me la porto in app quindi sto un po' ristrutturando l'exam table quindi questi due li faccio sparire e lo show form lo farò sparire perché stavolta lo show form è dentro l'url no? quindi è lo stato di navigazione dove è andato? e quindi l'exam l'ho tenuto in app quindi lo faccio sparire poi dove sia meglio tenerlo diciamo che adesso in questo momento la cosa è un po' discutibile nel senso che noi avendo questi fake courses fake exam in app siamo un po' obbligati a tenercelo qui no? per poterlo inizializzare con i fake ma nel momento in cui l'informazione poi andrà sul server quindi faremo ad update sul server di per sé si potrebbe anche mantenere in nella come si chiama nella exam table dov'era perché noi le azioni faranno sì di fare una chiamata sincrono verso il server quando ci sarà la risposta e si aggiornarà quello stato e abbiamo risolto il problema non dobbiamo necessariamente tenerlo in app adesso lo stiamo tenendo in app un po' per comodità perché non possiamo fare in modo che il nostro exam course vada a caricarselo dal server perché non siamo ancora capaci quindi exam course quindi a questo punto non gli diamo più i fake exams ma gli diamo gli exams e i fake courses vanno bene dobbiamo penso dargli il delete exam che abbiamo mantenuto qui perché ne abbiamo bisogno qui perché la cancellazione la facciamo qui essendo che lo stato l'abbiamo spostato qui ok vediamo cosa c'è ancora che non va quindi use state is not defined va bene dobbiamo fare l'import della use state queste sono tutte idiozie no cioè cose importanti ma voglio dire banali exam form is not defined quindi dobbiamo esportarcelo importarcelo quindi exam component import exam scores exam form quindi exam components dobbiamo andare a esportarcelo fondo quindi non sarà più default no sarà vediamo se riesco a velocizzare ulteriormente intanto faccio più pasticcio che altro fare di piccolo ok quindi salviamo da una parte salviamo dall'altra exam calls in app non è definito la 51 exam codes cosa mi aveva scritto qui exam codes ah exam codes sì è semplicemente una cosa di servizio che avevamo messo qui ci estraiamo il codice del corso per non passarci tutto l'oggetto esame perché così viene un po' più facile facciamo includes e passiamo solo il corso i corsi che non sono ancora presenti nello stato exams perché stiamo facendo un piccolo miglioramento all'applicazione dell'altra volta già che ci siamo evitiamo che siano nella lista per l'aggiunta dei corsi che sono già nello stato quindi non possiamo aggiungere due volte lo stesso corso come invece facevamo nel caso di prima dunque adesso c'è exam component a sistemare exam component exams not 26 quindi dovremmo passarglieli quindi dobbiamo andare a sistemare exam questo è l'exam table exams quindi in realtà questo è un props perché gliele passiamo stavolta prima era lo stato e quindi era direttamente exams ma non c'è più lo stato l'abbiamo tolto messo in app e quindi questo diventa un props quindi anche i delete exam non è più qui è una props e poi c'era dunque c'era set show form eccetera che questa è la cosa interessante che adesso andiamo a sistemare però c'era ancora ad exam dove sta l'add exam che è una props 36 ma questa questa niente la sistemiamo allora finito table cosa facciamo qui non abbiamo più lo stato show form adesso è lo stato di navigazione questa è la parte interessante allora link no perché e perché e come facciamo a dire andiamo sulla pagina di navigazione cioè noi siamo e adesso non si vede più chissà se qui non si vede più c'era la tabella no la tabella dei la tabella degli esami dobbiamo comunque avere qualcosa per navigare su add ok e cosa facciamo mettiamo il link mettiamo il link allora cosa mettiamo il to no diciamo qui lo stato è molto semplice add nel senso che non c'è stato c'è un url ok add e poi e poi in realtà dentro possiamo mettere quello che ci pare potremmo scrivere semplicemente add no e fine ok giusto per farvi vedere come funziona poi adesso lo rendiamo più carino no a link vabbè devo andarlo a importare fatemi importare tutto quanto così non ci da più fastidio poi useremo redirect use location eccetera va bene ok vabbè questo define never use non fa niente ma noi a questo punto possiamo provarci l'applicazione no adesso abbiamo un link add no schiaccio add vedrete che andiamo a navigare su add ok è comparso il form quello di prima quello che prima avevamo sotto ok quindi abbiamo realizzato il primo passetto di aggiornamento della nostra applicazione se sono mi sta sulle scatole che sia un link per chi non mi piace dentro posso scriverci quello che mi pare se io voglio metterci dentro un button non è vietato no avevo il mio button di prima fatemi ricordare come era esattamente quindi button success ci scrivo add e resta un button ma in realtà è un link ok quindi variant success così lo faccio azzurro add e che cos'è è semplicemente è semplicemente dobbiamo un bottone ma in realtà è un link quindi components voglio farvi vedere la struttura se si vede dunque siamo sulla root dentro switch su una root root esce niente path name slash ok state undefined bene nessuno mi è passato nessun stato e volevo vedere se c'era link anchor ok che è quel link anzi link scusate link to add è quello che abbiamo messo va bene spendiamo ancora un attimo di tempo prima di fare la pausa così cerchiamo di mettere a posto l'esempio nel nostro caso sarà più conveniente mantenere il model oppure toglierlo avere solo il form come volete nel senso che il model blocca tutta l'applicazione se io invece sono appunto vado su add un bottone diciamo non so di fianco potrebbero esserci altre informazioni no è una questione di decidere come vogliamo che si comparti nella nostra applicazione oh devi focalizzarti su quella cosa metto un model e poi nel lab c'è scritto di usare il model anche per provarlo una volta se no può essere una pagina della nostra applicazione nel senso è a vostra scelta a meno che come nel lab dice vabbè per favore usare model così intanto impari ok mettiamo a posto il form perché adesso vedete che c'è il bottone cancella il bottone save e non fanno più nulla anzi creano dei problemi perché dobbiamo ancora mettere a posto allora andiamo a mettere a posto quindi siamo dentro l'exam form no l'exam form allora l'exam form allora gestiamo prima facciamo il il facciamo il cancel il cancel è banale cancel è banale nel senso che c'era il bottone no on click props cancel eccetera ma qui in realtà mettiamo un link con un button dentro slash e abbiamo fatto funzionare il cancel quindi vedete che da un lato le cose si semplificano perché se è uno stato di navigazione non c'è più tutta la faccenda del cancel eccetera chissà cosa ci passa quindi proviamo ok siamo su add tra l'altro notate stavolta ho caricato add e sono già sul form perché questo è uno stato cancel funziona add cancel adesso dobbiamo sistemare il save tra l'altro ecco notate che abbiamo sistemato quei corsi e quindi qui compaiono solo quelli che non ci sono prima quindi sono i 5 non sono più tutti e 9 va bene adesso sistemiamo il submit che ovviamente è un po' più difficile allora beh il submit prima di tutto quando il bottone ci fa il submit io direi lasciamo pure l'end or submit anzi più che direi lo lasciamo nel senso che noi vogliamo fare la validazione del form quindi è ragionevole che finito di trafficare con un form schiacciamo il bottone e facciamo la validazione del form quindi end or submit ok e dobbiamo cambiare cosa facciamo qui dentro vabbè potremmo fare un po' di validazione adesso taglio un po' su questa cosa diciamo che cosa facciamo nel momento in cui vogliamo navigare via potremmo fare history push come dicevo prima non mi piace tanto non mi piace tanto e invece io vi metto set submitted submitted uguale no scusate true usiamo quel meccanismo delle slide no del redirect quindi adesso creeremo uno stato no cioè questa cosa qua ci implementiamo questa ok che è la cosa più semplice da cui partire almeno credo spero ok e lo facciamo così perché poi dovremmo passare l'exam perché con history push si può fare ma navighiamo e basta passare lo stato non ci riusciamo quindi allora qui ci spunta un const facciamo il copio e incolla così facciamo prima e anche sbagliamo meno submit set submit us state inizialmente falso nel momento in cui premiamo il bottone submit va true ok e come facciamo a fare redirect e all'inizio del return no quindi aperta graffa submitted questo ce lo scriviamo submitted redirect redirect to e dove dobbiamo andare slash ok slash così ok altrimenti due punti no perché ho chiuso la graffa la graffa va chiusa in fondo quindi è tutto dentro un'espressione javascript jsx quindi io inizio con un submitted redirect altrimenti tutto il resto occhio che deve essere messo tutto in un unico elemento e quando non sappiamo cosa fare spero di non essermi persi dei pezzi per strada mettiamo il fragment ok redirect perché lo segna non fidiamoci troppo del ecco magari ci metto un po' ad aggiornarsi quello che c'è scritto sotto se abbiamo salvato è la cosa più giusta ok quindi add navighiamo su add proviamo a vedere se il save almeno ci porta sulla pagina principale quindi abbiamo almeno fatto funzionare il redirect poi mettiamo a posto l'esame save sì diciamo che ha fatto qualcosa c'era però mi sa qualcosa di add exam non ce l'abbiamo quindi dobbiamo ancora mettere una quindi commentiamo quindi per ora non funziona scusate questo me l'ero perso ok quindi riproviamo add save ok siamo tornati sulla pagina l'unica cosa non c'è l'esame dobbiamo ancora aggiungere l'esame ed è l'ultima cosa importante che vogliamo fare quindi come facciamo ecco nel momento in cui diciamo vogliamo aggiungere l'esame bene o lo facciamo di qui perché abbiamo la callback e questa è una possibilità anzi questa è è la possibilità io direi di farlo così exam scores gli abbiamo passato la no era il form gli abbiamo passato la callback add or update exam la bianca è male ecco cosa c'era che non andava add or update exam quindi props add or update exam che dovrebbe essere a posto quindi qui direttamente andiamo a modificare lo stato e può abbassare un po' la finestra del terminale quando è su visual studio code la finestra del terminale si è certo e così si vede un po' più di codice giustamente quindi salvato riproviamo quindi add adesso mi do un bel voto di system and device programming save ed è comparso add computer network technologies ho preso solo 18 save 18 ok perfetto quindi ho fatto funzionare l'add quindi qui non c'è bisogno di passare niente ok perché perché in realtà passo la callback e la callback fa tutto nel senso che è quello che io passo da app quindi quando io sono su app passo la ad exam e questa fa tutto proviamo a fare l'ultimo pezzo e poi il resto eventualmente lo metto solo a disposizione lo guardate ma un po' di validazione che lo scorsi è maggiore 18 maggiore di 18 minore di cioè minore uguale a 31 e tutte queste cose qua insomma sono poi due righe di javascript niente di speciale facciamo invece l'update quindi l'update io direi che mi faccio una ruta apposta come vedevamo su su questo schema voglio farmi una ruta apposta riciclo il componente quindi cerco di far funzionare lo stesso componente perché alla fine cosa c'è di diverso c'è solo l'inizializzazione poi vabbè quando faccio il save devo fare attenzione a fare update va bene però perché non riciclare il componente quindi allora voglio farmi la root e la metto quindi ho sempre un po' di ordine quindi root fatemi fare se no quindi non finiamo più 10.06 app quindi la root root path update render exam form quello di prima fake courses in realtà non dobbiamo filtrare perché poi passeremo diciamo l'esame da aggiornare quindi va bene ci basta questo quindi qui ho fatto una nuova root implementate no perché format document scusate ok quindi update exam non c'è perché non c'è l'update exam ah l'update exam vabbè devo implementarla ma è una set exams ma niente di particolare no set exams faccio faccio una map se se il codice del corso è uguale aggiorno le informazioni ecco scusate aggiorno le informazioni ma notate ritorno un nuovo oggetto occhio non posso scrivere ex 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 punto course code uguale exam punto source code devo ritornare il nuovo oggetto questa è la regola di react devo fare la map per il nuovo array e devo ritornare il nuovo oggetto sull'oggetto che ho cambiato ok va bene l'update exam c'è e adesso devo solo devo solo lasciare fare in modo di usare l'update dov'è che si usa l'update sul bottone del della lista quindi quindi devo agganciare questo bottone che era in exam components era nei raw controls icon edit che non ne avevamo fatto funzionare e adesso la facciamo funzionare quindi in icon edit l'icon edit ce la trasformiamo così da una semplice iconina lo facciamo diventare un link link ecco la cosa interessante è link to e questa volta non scrivo update e basta perché? perché devo passargli l'informazione che voglio aggiornare ok l'informazione che voglio aggiornare è la passo nello stato avrei forse potuto anche fare slash col codice del corso e poi agganciare il parametro eccetera qui ho deciso di fare così così vediamo il passaggio con lo stato state e passo un oggetto un oggetto nuovo creato da me props exam date adesso qui forse si date si dovrebbe essere giusto e questo state me lo devo ritrovare poi in fase di editing come faccio ad agganciarlo adesso poi lo agganciamo quindi intanto vediamo che funzioni l'update quindi sull'applicazione allora ricarico ogni tanto è bene ricaricare perché non è che react riesce proprio a tracciare tutto quello che facciamo soprattutto se impasticciamo il codice è solo mezzo scritto eccetera software engineering clicco su edit e vado su update ok ci sono adesso vorrei che fosse impostato qui a software engineering con il voto eccetera software engineering non ricordo avevo preso 30 no avevo preso 18 quindi vorrei che fosse impostato su 18 e poi eventualmente qualcuno lo modifica quindi l'ultima parte è far funzionare questo aspetto quindi l'update dove ci porta e dove ci porta devo andarmelo a leggere vado su app root path update ci porta exam form ok quindi ci porta nello stesso posto di prima exam form quindi di fatto io sto cercando di riciclare il componente per due usi diversi uno è l'add e va bene e uno è l'update come faccio a capire in quale stato sono no? devo andare ad agganciare il il fatto che se mi arriva l'informazione dello stato come si fa l'abbiamo visto sulle slide no? quindi questa acqua userei questo modo a sinistra che è la cosa più facile use location location state è settato allora mi inizializzo lo stato come voglio io e poi il form il form lo lascio andare come voglio al massimo devo mettere a posto l'update no? quindi ma l'update in realtà mi è già messo a posto per chi gli ho passato la funzione di update come props no? qui in app l'update è già messo a posto perché io ho passato update exam anziché add no? prima avevo passato add quindi il componente sa già che chiama update e non add se me lo chiama con con l'oggetto giusto è già tutto a posto devo però sistemare qui quindi qui facciamo const location location uguale use location ok? quindi con questo hook che mi deriva da router l'ho messo a disposizione il router vedete che lo prendiamo da reactrouterdom e poi e poi in fase di inizializzazione anziché dire va course è vuoto vi metto la cosa giusta quindi come scrivevo prima location state è settato location state exam course code altrimenti vuoto perché ho bisogno di questa cosa? perché? perché io il componente qui è proprio il caso in cui ogni tanto lo stato non è settato l'ho riciclato per fare l'add quando faccio l'add non è settato lo stato perché il link che mi porta add non setta lo stato no? è quello di quel bottone no ce l'abbiamo ce l'abbiamo in fondo no? il link che mi porta no dove è andato? nella tabella era ecco qua link che mi porta add non setta alcuno stato cioè questa è una stringa non è un oggetto ok? quindi metto a posto location state va bene fatemi mettere a posto il resto 30 quindi il 30 di nuovo state exam score io passo quello che voglio se passo un oggetto un oggetto che ha una proprietà di exam che poi ha un'altra cosa e qui ok quindi anche la data e quindi ho inizializzato il casaccio che non va robs location state rispetto ai token rispetto ai due punti mi sa che qui ho fatto qualche quacciocco 49 ah allora ah qui ah io mi sa che ho fatto qualche copia e incolla brutto prima che non ho visto exam row data ce la ricopiamo dal file originale così facciamo prima ok ho fatto un'incolla mi è scappato un'incolla da qualche parte che non ho visto ok quindi io ho impostato l'inizializzazione proviamo quindi ricarico tutto questa volta faccio dunque era il 18 software engineering edit e c'è qualcosa che non va va bene vediamo form type date value date format ah sì ecco una cosa che volevo segnalarvi poi siamo quasi vicini alla pausa il fatto che qualcuno mi ha scritto in settimana e anche in laboratorio per la verità mi hanno chiesto il fatto che il date aveva un comportamento un po' particolare nel senso che se scrivevo con la tastiera nel campo date non riuscivo a prendere tutta l'informazione correttamente cioè l'anno quando lo scrivevo poi a un certo punto mi saltava tutto si bloccava e così via questo capita perché i controlli html in particolare questi un po' più complicati date time eccetera sono un po' schizzinosi su cosa prendono come value ok allora la cosa migliore in questo caso è diciamo lasciargli la stringa che loro generano e poi farci le conversioni noi a valle quindi lasciamo in date il valore di date quindi io sostituisco questo date così value date have target value la set date quindi a questo punto mantiene mantiene però una stringa no? ok? mantiene una stringa stiamo abbassando due volte la stringa nel senso della tabella facciamo data format format e da errore sì 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 infatti è proprio questo è il punto nel senso che cioè in date o ci teniamo la stringa o ci teniamo l'oggetto prima tenevamo l'oggetto nell'esempio che io ho caricato tenevamo l'oggetto adesso lo sto convertendo a tenere la stringa la cosa migliore sarebbe tenere la stringa perché così siamo sicuri che quando facciamo value uguale il nostro stato funziona sempre perché ce l'ha settato il controllo html e la conversione la facciamo dopo quindi quindi qui dobbiamo fare date djs date cioè la conversione in oggetto la facciamo qui ok? quindi alla fine and submit e poi dunque c'è qualcos'altro da modificare spero di no proviamo la cosa migliore facciamo prima quindi software engineering ecco finalmente funziona 18 e abbiamo caricato l'informazione che c'era prima no? 24 maggio è funziona ho solo cambiato questa cosa che nello stato mantengo la stringa e non l'oggetto e l'oggetto lo crea al bisogno poi volendo potremmo anche bloccare l'editing che non sarebbe male perché è un update quindi dunque c'era un design eccetera adesso vabbè questo ve lo lascerei da fare comunque mettiamo poi la soluzione e vorrei fare un'ultimissima cosa che è andare a fare un minimo di validazione perché così vediamo come gestire un messaggio di errore qualcuno in laboratorio si chiedeva come fare eccetera no? io visto che è tardi prendo il codice faccio faccio l'incolla e quindi and submit no exam lo lasciamo quindi diciamo che facciamo questo e ci facciamo un minimo di validazione let valid true if course è vuoto score è vuoto valid false course è score number più score cioè fa la conversione in numero ok adesso arriva la domanda score number se è minore 18 maggiore di 31 è un valid falso se è valid ok facciamo l'aggiornamento set submit altrimenti set error message cos'è set error message? bene abbiamo bisogno di un ulteriore stato questo è uno stato locale questo è proprio il classico esempio di uno stato locale quindi l'error message che nei casi più complicati eventualmente può anche essere un array di messaggi qui diciamo che ci basta una stringa all'inizio è vuoto nel senso una stringa vuota error message is valid never used perché devo mostrarlo quindi da qualche parte metto l'error message quindi che sto in cima al form form sì quindi error message sì alert error quindi un normalissimo bannerino di bootstrap c'è l'alert deve essere importato che seccatore vabbè programmare live è così però spero che sia utile adesso vengo alla domanda e poi facciamo veramente la pausa quindi 18 ok software engineering io prendo cosa posso mettere 32 save errore questo è lo stato che poi qualcuno dovrà resettare volendo potete mettere fare l'alert che si chiude con uno stato che quindi fa chiudere la finestra c'è anche il bootstrap o altrimenti quando aggiustiamo tutto diciamo noi siccome navighiamo via da questa pagina non è che abbiamo tutto questo bisogno di aggiustare cioè se cambiamo se non c'è un errore come in questo caso facciamo save e sia giusto cioè andiamo via la domanda è per bloccare l'editing non potremmo usare la location sulla costruzione dell'exam form bloccare l'editing non potremmo usare la location sulla costruzione dell'exam form sì sì esatto vabbè allora facciamolo quindi credo che nell'esempio che avevamo lo facesse fanno un controllo choose ecco disabled infatti mi aveva messo così possiamo fare questo dunque qui su options no fanno un controllo va bene esatto ogni tanto guarda perché se no magari sbaglio devo andare a cercare sul manuale mettiamo disabled location state se location state è settato course name non mostra la scelta esatto anzi addirittura siamo più drastici qui diciamo se lo stato è settato non fa fa in modo che non si possa cambiare proviamo però bravo appunto quindi va bene proprio quello che avevamo in testa di fare ecco adesso è bloccato verifichiamo che funzioni con l'add con l'add non è bloccato bene allora siamo a posto ok abbiamo finalmente finito l'esempio ci è voluto un pochino ma spero sia istruttivo per farvi vedere come come funziona tutto il meccanismo di del processo che ci deve portare a creare le pagine e decidere cosa metterci eventualmente passare lo stato eccetera eccetera altre domande nel caso delle root home sarebbe stato corretto passare lo stato contenente la lista generica diciamo che sull'url non è che posso passare tanta roba l'url tendenzialmente poi è anche un url in cui generalmente si passano solo dei parametri per la visualizzazione quindi uno stato con una lista non è un qualcosa che metterei sull'url ok è un qualcosa che purtroppo adesso abbiamo questa variabile fissa se no ce lo carichiamo dal server cioè c'è una richiesta sincrona in background che va a caricarselo non mi care se passando uno stato a una root avvenga una copia o se modificando lo stato internamente alla root tale modifica si rispecchia anche nello stato originale no allora noi lo chiamiamo stato ma in realtà non è uno stato di react è una cosa che viene passata ok e poi e poi decidiamo noi come usarlo no quindi nel momento in cui noi lo prendiamo quindi qui siamo noi che decidiamo cosa farne ok quindi noi decidiamo che fare questi sono valori per cui non hanno bisogno di duplicare niente cioè sono stringhe numeri ok se avessimo bisogno di di metterci un oggetto probabilmente sì sarebbe meglio creare un nuovo oggetto però è in questo momento che decidiamo noi perché siamo noi cioè potevamo farne console log se voi facciamo un console log il problema non si poneva se lo vogliamo impostare come uno stato in questo momento dobbiamo stare all'occhio anche se lo facciamo come inizializzazione quindi non è così critico cioè l'inizializzazione alla fine diciamo è per forza un nuovo stato perché prima non c'è niente poi non mi è ben chiaro cosa significa che user root match è utile per accedere al match senza fare rendering nella root se uso user root match non significa che sono dentro la root e quindi è già stata renderizzata sì dunque questo era scritto sulle slide andiamo a vederlo era sulle user root match è useful per accesso la match data without actually rendering e root sì slide 21 a dire la verità questa slide non l'ho fatta io non la so ci penso le rispondo dopo la pausa ok facciamo la pausa ok io interrompo la registrazione così intanto in cloud viene processata eccetera e riapro subito tutto e spero di tornare con una risposta ok stop share ok Grazie.